Giovani, buonasera e ben ritrovati sul canale di Neapolis 1927, per prima cosa iscriviti al canale, gratis, vaiù! Lazio-Milan 0-1, veniamo subito alle cose più importanti. Il rigore per la Lazio c'è? No, il rigore non c'è, diciamolo subito, perché sennò poi i laziali, oh c'era calcio di rigore, non c'è calcio di rigore, diciamolo subito, ma Ignan fa un intervento, va sul pallone, poi naturalmente, vaiù il campo è zuppo, non può fermarsi naturalmente e quindi travolge il giocatore della Lazio. Prima espulsione della Lazio, corretta, lo possiamo dire tranquillamente, vaiù, perché c'è, non venite a dirmi, no, ma lui l'ha fatto perché pensava che il giocatore del Milan mettesse la palla fuori, invece ha continuato, finché l'arbitro non fischia e se no si ritorna al punto di Inter-Atalanta, che l'arbitro se non fischia deve continuare a giocare, vaiù questa cosa deve entrare in testa ai giocatori, se questa cosa non entra in testa ai giocatori è finita, vaiù, perché se l'arbitro non fischia tu devi continuare a giocare. L'unica espulsione forse che non ci sta è quella di Guendouzi, vaiù, quella non ci sta, quella è un'espulsione pesantissima perché poi naturalmente il giocatore salterà la prossima partita, ma secondo me se faranno ricorso potrebbe essere tolta la squalifica perché, come hanno detto anche a Dazono, non è un intervento da rosso quello, quello è da giallo, qui sbaglia l'arbitro e qui deve intervenire il VAR, VAR che non interviene, interviene il VAR però sul gol dell'1-0, autogol clamoroso di Gila, poi Provedela se la butta dentro, c'è fuorigioco, è un mini, guardate si spende pure la luce, è un mini fuorigioco, sì, ma c'è, vaiù, non scappi più al fuorigioco, è un millimetro e quando Vescero Pavaro è fuorigioco, vaiù, vuoi o non vuoi è fuorigioco, vaiù, non mettiamo cos'è, comunque, io stavo vedendo la partita, vaiù, ma giusto, tutta quanta, c'è, ve l'ho detto, la partita è cambiata dopo l'espulsione, da quando la Lazio si è ritrovata in dieci uomini la partita è cambiata perché naturalmente Pioli che fa leva quei giocatori un pochino più e mette i giocatori tutti d'attacco, è normale che prima o poi la butti dentro questa palla, però nel mentre, dopo la grandissima parata di Provedela, sulla reazione dopo, sull'azione dopo, Immobile la butta dentro, non so se questa partita finisce 1-0 per il Milan, sono sincero, sono sincero, però ecco, il Milan fa un favore al Napoli, la blocca, la Lazio è bloccata lì, il Napoli dovrà vincere contro la Juventus, non vinceremo, non vinceremo, non lo so, comunque io vorrei dire una cosa, Leao a Ju cammina in mezzo campo, cioè, Leao cammina, e questa è la cosa grave, che questo cammina in mezzo al campo e piglia tanti soldi, cioè, Milanisti, io non so voi se questa cosa vi va sempre, vi può andare sempre bene vedere un giocatore che cammina e ride pure se non fa nulla, cioè, non lo so, non lo so, non lo so, comunque, ribadisco, l'espulsione c'era, la prima espulsione della Lazio a Ju, non me ne vogliano i razziali, ma è così, il rigore non c'è, poi, vabbè, Di Bello vuole fare la scena, vuole fare il bello, e si vuole, non so cosa voglia fare, ha voluto dimostrare una cosa del genere, anche lì, immobile, ha morito immobile, non so, forse per proteste, sorvola, se il VAR dice, stai calmo, stiamo riguardando, no, che subito cartellino giallo, così non va bene, stessa cosa, è finita la partita, è inutile che dè un rosso a Guenduzzi senza senso, anche il secondo rosso per la Lazio, chi l'ha preso, i Saks, che non mi ricordo nemmeno chi l'ha preso, non ha senso, è normale che siamo al 93esimo e i giocatori sono ingazzati, hanno perso la partita, stai zitto, perché se no, se vai a fare la prova di VU, Gatti doveva essere buttato fuori tre giornate per frasi blasfeme, cioè per farvi capire, comunque detto questo, iscriviti al canale, sempre e comunque forza Napoli, ciao a tutti!